Buonasera e benvenuti al quarto astro cocktail di Polaris, l'astronomia all'ora dell'aperitivo. Fin dagli albori dell'era spaziale, il pianeta Marte ha rappresentato uno degli obiettivi principali delle missioni di esplorazione fra i pianeti. Infatti, seppure Venere può essere considerato il gemello della Terra per quanto riguarda le dimensioni e la massa, certamente Marte è il pianeta più simile per le condizioni sulla superficie, anche se la pressione, la temperatura e la gravità sono parecchio diverse da quelle a cui siamo abituati sulla Terra. Addirittura, in futuro potrebbe essere la meta di una missione umana. Quindi, per studiare ed esplorare al meglio questo nuovo ambiente, le principali agenzie spaziali negli anni hanno sviluppato sonde e rover che hanno accresciuto moltissimo le nostre conoscenze su questo pianeta. Questa sera andremo a scoprire Mars 2020, la prossima missione di esplorazione marziana che partirà quest'estate. Nel nostro viaggio saremo condotti da Alessandro Vietti, socio e divulgatore di Polaris, scrittore e uno dei massimi conoscitori dei segreti del pianeta rosso. Prima di lasciare voce e video ad Alessandro, vi ricordo che potete trovare gli aggiornamenti sulle nostre attività sulla pagina internet www.astropolaris.it e sulla pagina facebook astropolaris genova. E gustando il mio aperitivo vi auguro una buona visione e una piacevole serata in nostra compagnia. Ciao ciao! Buongiorno e benvenuti agli astro cocktail dell'associazione Ligure Astrofili Polaris. Quest'oggi vi parlo di Mars 2020 Perseverance, la nuova missione su Marte che la NASA ha previsto di inviare entro la prossima estate. Che cos'è Mars 2020? Mars 2020 è un rover, qui lo vedete a destra, a sinistra vedete il suo predecessore Mars Science Laboratory o altrimenti conosciuto come Curiosity. Come vedete i due rover sono abbastanza simili fra di loro, quasi identici a una prima occhiata e questo fa capire che Mars 2020 nasce dalla esperienza e dall'affidabilità dimostrata da Curiosity. I tecnici della NASA hanno quindi scelto questo questo tipo di soluzione tecnologica e hanno praticamente fatto un cosiddetto upgrade, hanno fatto un nuovo modello più sofisticato del precedente ma utilizzando le tecnologie di base praticamente identiche. Anche le dimensioni sono praticamente uguali, parliamo di 3 metri per 2,7 per 2,2 per un peso che per Mars 2020 è circa un migliaio di chili mentre per Curiosity era 900 chili. Peso sulla Terra ovviamente perché su Marte il peso è circa un terzo. vediamo alcuni dati di base della missione Mars 2020. La partenza è prevista tra il 17 luglio e il 5 agosto prossimi. Questa è la cosiddetta finestra di lancio. Per ora la pandemia non ha avuto alcun effetto sulla programmazione della missione. Il 2020 era una data particolarmente propizia per i lanci verso il pianeta rosso perché la Terra e Marte sono in una posizione favorevole che consente di avere un viaggio tra Terra e Marte appunto abbastanza breve. Parliamo di circa otto mesi. Purtroppo le altre missioni sono state rinviate non solo per la pandemia ma anche per altri problemi. L'unica rimasta appunto è questa della NASA. Non sappiamo se la situazione mondiale consentirà di procedere senza rinvii ma per ora la NASA non ha fatto alcun retromarcia e quindi la missione per ora è correttamente schedulata. L'arrivo è previsto il 18 febbraio 2021 quindi come dicevo circa otto mesi di viaggio con un vettore di lancio che sarà un solito Atlas V che è il vettore classico che la NASA utilizza sempre per questo tipo di missioni. Il sito di lancio sarà al solito anche in questo caso Cape Canaveral dalla Florida per un sito di arrivo invece che sarà il cratere GZERO di cui parleremo tra pochissimo. Quanto durerà la missione? La missione è previsto che duri un anno marziano quindi parliamo di 687 giorni terrestri. Questa è la durata nominale prevista dalla NASA e che la NASA ritiene congrua e in base alla quale riterrà arrivando in fondo avere successo la missione. È chiaro che se le cose andranno bene come è già successo molte volte in passato la missione potrà anzi sarà probabile che venga estesa anche oltre. Pensate che appunto Curiosity il predecessore di Mars 2020 è ormai attivo sul pianeta rosso da sette anni e mezzo. Ecco qui il sito di atterraggio rispetto a cui lo vedete rispetto alle altre sonde della NASA sparse un po' su tutto il pianeta. Qui le vedete la Mars 2020 sarebbe la nona sonda ad atterrare su Marte a partire dalle Viking 1 e 2 che atterrarono nel 1976 quindi a 40-45 anni di distanza le sonde sarebbero 9. Come vedete Mars 2020 non sarebbe molto distante da Curiosity e da Insight ma è impensabile che le sonde possano incontrarsi perché comunque sì che sono dei rover che si muovono ma si muovono molto lentamente. Pensate che Curiosity in sette anni e mezzo di missione ha percorso soltanto 45 chilometri quindi nonostante che insomma apparentemente non siano poi così distanti sicuramente non si incontreranno. Ma vediamo un po' più da vicino il cratere che sarà il sito di atterraggio e anche il sito di studio della missione, il cratere Gisiro. È situato nella parte occidentale di una regione che si chiama Isidis Planitia e ha un diametro di circa 49 chilometri. Quello che vedete qui nella foto, questo cerchio, è la zona di atterraggio prevista per la sonda ma il cratere è molto più ampio. Qui ne vedete soltanto un pezzo, qui vedete il profilo del cratere è questo qua che sto tracciando. Perché il cratere Gisiro è molto interessante da studiare? Perché è un bacino meteoritico da impatto che in passato si ritiene, è praticamente certo, che abbia ospitato un ambiente umido, anzi un ambiente più che umido, un ambiente ricco d'acqua. E la prova la vedete anche da questa immagine, molto molto semplicemente. Lo vedete in questa parte a sinistra, lo vedete qua? Questo è esattamente e incontrovertibilmente il letto di un fiume. Quindi è molto molto probabile che questo cratere qua, molti milioni di anni fa su Marte, fosse un lago. Qui lo vedete meglio in quest'altra immagine che è speculare alla precedente. Qui vedete è altimetrica, i colori indicano le altitudini, quindi i colori azzurro e viola sono le altitudini più basse e giallo e rossi le altitudini più alte. Qui vedete in questa zona a destra il fiume che nell'altra immagine che vediamo a sinistra e quello che doveva essere un grande, grandissimo lago. E questo è un ambiente molto interessante perché in un'abbondante presenza d'acqua può esserci stata, ci possono esserci state le condizioni per lo sviluppo di una vita almeno di tipo microscopico. Ed infatti questo è il primo obiettivo principale della missione, determinare se sia mai esistita vita microbica su Marte attraverso lo studio delle rocce. Questo è un po' la cosa fondamentale, la cosa principale per cui la NASA sta mandando questo rover, cercare di trovare indizi che testimonino lo sviluppo di una vita microscopica nel passato di Marte. Quindi il rover non cercherà vita attuale nel presente come fecero per esempio, anzi l'unica volta che lo fecero le sonde Viking nel 1976 con risultati contrastanti, perlomeno per alcuni, per la NASA, mentre per altri furono invece decisive, insomma, quello studio non fu più replicato. In questo caso noi non la cerchiamo adesso nel presente, la cerchiamo nel passato attraverso appunto lo studio delle rocce. Lo studio delle rocce ci potrà consentire anche di ricostruire il passato delle condizioni climatiche del pianeta, cioè come sono evolute le condizioni climatiche del pianeta nel corso delle ere geologiche. Con un occhio però rivolto soprattutto sempre ad ambienti che possono aver ospitato la vita. Il rover cercherà anche indizi sui processi geologici che hanno creato e modificato la crosta marziana, questo diciamo è un po' l'obiettivo che tutti i rover hanno, quindi acquisire sempre nuovi dati sui processi che hanno portato a evolvere la superficie marziana, qual è quella che vediamo noi oggi, e poi un obiettivo un po' diverso dal solito, che è quello di valutare le risorse naturali disponibili in vista di un'eventuale missione umana, e di questo parleremo nel dettaglio tra poco. A bordo del rover c'è tanta tecnologia, come sempre succede con questi rover, nella fattispecie parliamo di sette esperimenti che ha il rover a bordo, quattro di origine statunitense e tre di origine europea, uno francese, uno spagnolo e uno norvegese. Non ci sono in questo caso, ahimè, contributi italiani. Inoltre ci sono 23 telecamere di ogni genere, quindi sarà anche un grande spettacolo anche soltanto per le immagini che il rover riuscirà a inviarci. Ovviamente gli strumenti sono tantissimi, sono complessi, ne vediamo alcuni che ho ritenuto essere più interessanti, forse, il supercam, il sherlock e il moxi. Allora, supercam è installato direttamente nella testa del rover, qui vedete anche un'immagine che lo illustra, che cos'è? Che utilizza una combinazione di laser fotocamera e spettrometro per esaminare le rocce e il suolo alla ricerca di composti organici. È in grado di identificare elementi chimici e minerali su obiettivi grandi come la punta di una matita fino a una distanza di sette metri e la particolarità è un po' questa, cioè il rover con questo strumento riesce a fare analisi di tipo chimico alla ricerca di composti granici a distanza, quindi senza dover avere un braccio estensibile che comunque lui ha e quindi avvicinarsi al campione che vuole analizzare, ma riesce a fare la distanza anche ad una distanza non trascurabile, quindi sette metri, consente al rover di avere un certo grado di libertà per poter fare svariate analisi. Sherlock. Sherlock sta per Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Di fatto di cosa si tratta? Si tratta di uno strumento in grado di acquisire spettri Raman di campioni lungo la superficie di Marte o nei primi strati di terreno e sarà quindi fondamentale per determinare se la vita sia mai esistita sul pianeta rosso. Che cos'è uno spettro Raman? La spettroscopia Raman è una tecnica che misura fondamentalmente le vibrazioni degli atomi all'interno di molecole di un materiale su cui è focalizzato un raggio laser. Questo, l'analisi di queste vibrazioni, siccome ogni atomo, ogni molecola ha vibrazioni differenti, l'analisi di queste vibrazioni consente di determinare in maniera molto molto raffinata la tipologia del materiale che è oggetto dell'analisi. E l'ultimo che vediamo in questa breve carrellata è il MOXIE. Il MOXIE si riferisce al quarto obiettivo di cui vi parlavo poco fa. MOXIE sta per Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment e di fatto è un esperimento che cercherà di dimostrare la possibilità di produrre ossigeno su Marte a partire dall'atmosfera in anidride carbonica. Questo perché? Perché l'ossigeno sarà fondamentale nel caso di future missioni umane sia per la produzione di combustibile, ossigeno, che di miscele gassose ovviamente respirabili per gli astronauti e questo consentirebbe di non doversi portare un peso notevole dalla Terra e quindi semplificare notevolmente la missione. E poi c'è una cosa particolare su Mars 2020, una cosa che non è mai stata tentata finora e che rende questa missione ancor più interessante e in questo caso direi suggestiva, è la possibilità di volare su Marte. Sì perché Mars 2020 ha a bordo un drone, un piccolo drone di test che non farà esperimenti particolari ma sarà un test di tecnologia pura per vedere se è possibile farlo. Quindi se è possibile creare dei droni da inviare su Marte per poi fare analisi più particolareggiate, più dettagliate, più importanti. E qui vi faccio vedere questo breve video dove vi fa vedere questo cosiddetto chiamato Mars Helicopter, una tecnologia dimostrativa. Qui vedete l'animazione del rover e qui vedete il drone, una doppia elica che quindi si alza in volo con questo piccolo cubo che contiene il controllo dell'oggetto e una piccola camera in grado di fare delle foto del terreno. E questo chiaramente se la tecnologia fosse validata sarebbe molto importante per poter fare altre missioni. Qui vedete il drone che invia i dati recuperati durante il suo volo e la sfida è proprio riuscire a fare un oggetto in grado di essere controllabile, stabile in volo in un'atmosfera che, teniamolo presente, non è quella terrestre perché l'atmosfera marziana è un millesimo di quella terrestre. Quindi una pressione di un millesimo è molto più rarefatta, quindi il controllo e l'assetto di un oggetto volante di questo tipo è completamente diverso. E vedremo se riusciremo anche a vedere questa cosa che ci farà veramente emozionare perché vedremo una cosa che non era mai stata tentata finora. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi astro cocktail dell'associazione Ligure Astrofi Polaris. Arrivederci. per Experiors Vedremo Grazie a tutti.